Ma buongiorno a tutti ovviamente, oggi tier list dei giganti di Attack on Titan, se ne sono pochi, in realtà mi raccomando il video contenete gli spoiler, quindi se non siete arrivati alla fine di Attack on Titan, non avete visto tutte e quattro le stagioni, non guardate i video, guardatene altri sul canale, è pieno di altri video, non guardate questo perché appunto contiene degli spoiler. Per iniziare vi chiedo un bel like e un follow, ti tengo d'occhio, vedo che non l'hai ancora fatto, cos'è questa cattiveria? Questa è la tier list con i vari giganti di Attack on Titan, c'è anche il nome per semplificare il tutto, infatti ringrazio, ringrazio chi ha fatto la tier list. Se volete la tier list con tutti i personaggi, ho visto che ce n'è una con se non sbaglio tipo 30-40 personaggi, ve la faccio in futuro molto volentieri. Andiamo a mettere i personaggini nella classifica, seguendo un po' le loro estetiche e la loro utilità, soprattutto come gestiscono un po' questo loro potere, perché ce ne sono alcuni che non mi ispirano molto. Direi di partire in ordine, abbiamo il top, i migliori, coloro che riescono a gestire meglio il tutto, bello, coloro che mi piacciono, anche come gestiscono i titani, ok, chi è ok, e non mi piace coloro che veramente fanno una figuraccia a livello assurdo. Ce ne sono un paio qua che non mi piacciono. Allora, il primo è Annie, il gigante femmina, che in realtà, mmm, sto pensando, sto pensando, io te lo metterei in bello Annie, allora, più che altro perché è il primo vero e proprio gigante, uno dei nove, che vediamo combattere, quindi te lo metterei io a questa posizione qua, però in realtà ha poche cose particolari, anche il fatto che possa copiare gli altri giganti, cioè i poteri degli altri giganti li possa copiare mangiandoli, non ho ben capito neanche io, è bella come cosa. Quindi probabilmente te lo metto in bello. Armin, Armin mi spiace, ma non ha combattimenti decenti, se non proprio alla fine, 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 però io te lo metto in ok, Armin, mi spiace. Mi spiace veramente tanto, ad esempio, Bertold che ha lo stesso gigante, te lo metterei in, o in bello il top addirittura, che almeno Bertold un paio di combattimenti li fa, è questa la differenza, secondo me tra i due, che un paio di combattimenti li fa, sia sulle mura combatte, in realtà lui di cose ne fa molti di più, ne fa molti di più. Poi vabbè, da quando gli hanno aggiunto l'esplosione a metà serie, secondo me si è perso il personaggio, il gigante colossale da quando ha l'esplosione e quando si trasforma si è un po' perso, cioè è diventato quello, lui è diventato l'esplosione. Però vabbè, per il momento io te lo metto qua, soprattutto perché, come ho detto, i combattimenti mi piacciono molto di più. Eren, allora, Eren è normale, perché dopo c'è l'altro Eren. Com'è che sono così tanto in dubbio con Eren? Va bene, io lo metterei in bello anche lui a sto punto, bah, mettiamoli in bello, facciamo la collezione dei belli. Va bene, ma in realtà perché Eren è snì, snì, cioè alcune volte fa veramente pena, soprattutto all'inizio, però tipo contro Reiner tira fuori delle cose assurde, anche contro Eren in realtà. Quindi io te lo metterei in bello, dai, in realtà mi è piaciuto, mi è piaciuto. Poi anche come piano piano riesco a capire bene come usare il gigante, te lo mettiamo così. E Eren K, che è l'altro Eren, quello prima prima di lui, di gigante, io te lo metto in ok, fa veramente solo il suo. Si vede una volta la scena e una volta distruggere la nave, va bene, te lo metto lì. Ho il Eren da fondatore, vabbè ragazzi cosa dobbiamo dire? È magnifico, è magnifico, veramente. Dai, è molto bello. Anche come estetica, poi lo occupo al massimo, te lo metto in il top, va bene, gran finale. Falco, ma anche Falco io te lo metto, anche solo l'estetica di Falco, quanto è bella l'estetica di Falco. Che sembra una sorta di piccione con la mascella potente. Dai, più di così cosa vogliamo? Frida, Frida, credo si pronuncia, io le metto in un mi piace, mi spiace, ragazzi, ma... Con tutto il bene che si può volere a Frida. Ma dai, ma dai. Uno scopre, hai fatto, hai perso, ma dai, ma poverina. Grisha, te lo metto in ok, sono giganti che appaiono poco loro due. Carl Fritz, il primo re. Ma io te lo metterei, in realtà non si è visto come gigante, ma per il suo potere. Cioè colui che crea le mura praticamente, colui che crea le mura. Io te lo metto in bello, ma quasi quasi ok, perché poi fa il suo più che altro. Vabbè, Lara, il gigante martello. Ma poverina, io la metti non mi piace. È durata tipo due episodi a dire tanto, ma veramente due episodi di numero. E ha fatto una tra le peggiori figuracce che si potessero fare, veramente. Ma a me mi spiace, perché comunque dai, poverina, il gigante martello. Poteva evocare degli archi, dei martelli, comunque. Guarda, è un potere veramente devastante rispetto anche agli altri. È durata mezzo episodio, dai. Mezzo episodio è durata. Vabbè, te la metti in non mi piace. Più che altro per quello. Poi mi fa morire da ridere che fa le tue ultime parole a Eren. E poi sono letteralmente le sue ultime parole. È un gioco assurdo questo. Marselle, Marselle non si vede come gigante. Quindi te la metto in ok. Più che altro che non si vede neanche lui. Pic, oh, il gigante carro. Di cosa stiamo parlando? Il gigante carro va subito in il top. Sto gigante che gira a quattro zampe per il mondo è bellissimo. Poi ha una faccia allungatissima. Molto bello come design, veramente molto bello come design. Quindi te lo metto in il top. Iniziamo a Falco ed Eren, super trasformato. Quindi veramente tanta tanta roba. Poco, Porco. Non so neanche io come splunge per bene. Però io te lo direi in bello. È ufficialmente il primo gigante mascella che vediamo. Perché i Mir non la considerano anche gigante mascella. Proprio è stato un errore, secondo me, di... È stato un errore farla uguale a come era trasformata. Cioè proprio non ha niente di mascella. Perché per farvi capire, i Mir è la terza mascella. Solo che Preneno, Porco e Marcella hanno questi maschironi qua tutti con una mascella potente. E lei no. Lei è così. Tranquilla lei. Vabbè. Va bene. Non ho capito perché. Però io te lo metto in bello. Perché appunto lei in realtà anche come combattimenti, come si sacrifica all'ultimo. Ma è bello come personaggio. Reiner. Allora, io Reiner te lo metto in bello. Più che altro che lui perde tutti i combattimenti. È tristissima come cosa. Lui non ne vince uno di combattimento. È veramente triste come cosa. Mi dispiace per lui anche. Perché non ne ha vinto uno praticamente. Tom Xavier. Te lo metto in ok. Più che altro su gigante si vede solo quello finto. Quello fatto con i poteri del gigante martello. Quindi in realtà non si vede neanche a pieno. Come ad esempio anche... Uri-Rels non si vede praticamente mai in gigante. I Myr, come detto prima, non mi piace più che altro. Perché pur essendo il gigante mascella, non c'ha la mascella. Cioè, non so se avete presente, ma tutti i giganti, prima di trasformarsi in uno dei nove, quindi quelli un pochino più potenti, quando sono giganti puri, quelli iniziali, sono diversi. Acquisendo il potere si trasformano in base al potere che hanno acquisito. I Myr no. I Myr è uguale prima, è uguale dopo. Ma in realtà per uno gigante I Myr che fa la schiava non mi piace. Cioè, c'ha il potere di trasformarti in un gigante di 30 metri nell'epoca delle lance. E non fai nulla. Ma dai. Ma cosa mi stai dicendo? E terzo giocante. Zeke, vabbè, lui è strabello. Ma anche come design, c'ha queste braccia lunghissime qua che arrivano a terra, che le usa come delle catapulte. Ma di cosa stiamo parlando? Zeke si merita i primi posti. Se proprio tra questi quattro ti devo fare la classifica, allora, Pick te lo metto al secondo posto di sicuro. Zeke al terzo. E Falco al quarto ed Eren al primo. Va bene. E la classifichissima è Eren, Pick, Zeke, Falco. E sotto più o meno in ugual modo. Andando a striscia praticamente, dai. Più o meno si capisce. E niente, in realtà questo era il video. Molto semplice, molto veloce. Domanda importante, domanda importante. Qual è il vostro gigante preferito tra questi o in generale, tra anche tutti gli altri? Quale vi piace di più di gigante? Questa è la mia classifica, forse di qua, sì. E mi raccomando, se volete quella con tutti, tutti, tutti i personaggi, scrivetemelo che la faccio molto volentieri. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi. Mi raccomando, non ti scordare il follow, è importantissimo. E il like anche, dai, un bel like.